Stiamo ragionando di superare la fase della permuta, ma la nostra intenzione è quella proprio di acquistarla. E questo è possibile grazie ad una buona amministrazione. Perché faccio questa battuta sorridendo? Perché quando abbiamo approvato il bilancio del 1931-12 ci sono state delle critiche perché lo approvavamo in largo anticipo. In realtà chi amministra bene i bilanci li va a approvare l'anno precedente, a fine anno precedente. E questo lo fanno soltanto con le amministrazioni virtuose, sono veramente pochi. Fanno, non lo ha mai fatto, con questa amministrazione è riuscita a farlo e succede che quando ci si comporta bene poi ci sono delle premialità. Tra queste premialità previste per chi approva entro l'anno precedente il bilancio di previsione e entro aprile il bilancio consuntivo ha delle possibilità in più. Tra queste l'eliminazione del vincolo di non poter acquistare beni e patrimoni. Per cui il ragionamento che stiamo facendo è proprio quello di arrivare all'acquisto e entrare in possesso di tutta l'area intorno al teatro e pensare ad un reale sviluppo che porterà ovviamente ad un valore aggiunto alla nostra città.